La macchina fotofragica. Ci troviamo sopra Preta, monte della Raga, versante di Amatrice. Siamo arrivati qui, che dovrebbe essere il 1300, come vediamo, per dirigersi al fosso di Hortanza. Abbiamo già percorso in altre occasioni, proprio da Preta, facendo il giro verso Colle Innamorato. Sappiamo di trovare, nel punto dove arriveremo, che è 1450 metri esatti, una serie di tre cascate. Una proprio al punto di 1450 metri e due a 50 metri più sopra. La zona è così intricata, così infestata di sottobosco, che questo possiamo considerarlo o il quarto o il quinto tentativo di andarci da questo lato. Ce la metteremo tutta per arrivarci, perché dopodiché faremo la nostra pausa estiva e venire di nuovo da queste parti, se ne parla, alle carente grecche. Iniziamo l'escursione con una bella giornata e ci immergiamo già subito nel bosco di quel percorso. Andiamo. Iniziamo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 100 metri di slivello, partiti da 1280, siamo a 1380. Grazie a tutti. 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 Torniamo alla base. Questa è la più bella cascata della laga al fosso di Hortanza quota 1430.